Un tempo fra me e Bo ha l'idea di massacrare le orde, ora non più. Che il sangue torni a scorrere. Voi uccidimi? No, io uccido te. Come riso sotto un cavallo. Questo è il mio motore. Tempo di saldi! Facciamoci una volta, in attesa del posto. Io vedo questo, in presa della tua vita. All'istante! Sono Takeo, il distruttore! Salutatemi, i vostri antenati! Sì, ma Takeo non serve aiuto, ma lo accetterà di buon bravo. Oh, il mostro si tiene stretta la sua non vita. No, 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 no. Nessuno oserà sfidare Takeo! È come se il mondo si fosse fermato, fatta eccezione per Takeo! Come dicono gli occidentali, alla salute! Non banchetterai con la mia carne! Non banchetterai con la mia carne! Non banchetterai con la mia carne!